Italia Viva sosterrà la candidatura a sindaco di Stefania Pezzopane alle prossime elezioni comunali. In conferenza stampa ad annunciarlo il deputato Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale, il capogruppo in comune di Italia Viva Polo Romano e la deputata Stefania Pezzopane. Un campo largo, così lo ha definito D'Alessandro, un campo riformista a fianco della Pezzopane e nei prossimi giorni arriveranno in città leader ed esponenti di governo per supportare la candidatura. Italia Viva nel ballottaggio si porrà anche come ponte per persone che per ora non hanno compiuto una scelta unitaria concordi nel voler cambiare il governo della città. Lo era sulla base di un percorso di lavoro che stiamo facendo in tutto l'Abruzzo, un accordo regionale ovunque nelle scorse elezioni, ovunque in queste elezioni, stiamo dando un contributo a costruire il campo largo del centro-sinistra, che non è solo sinistra ma è anche centro che noi rappresentiamo all'Aquila e in Abruzzo. Ma non essere uniti è sempre un problema, anche se noi ci candidiamo ad essere tra il primo e il secondo turno il ponte di collegamento con gli amici che non hanno chiuso un'intesa oggi ma che la dobbiamo chiudere domani per l'interesse dell'Aquila, dell'Abruzzo e degli Aquilani. Molto lieta la Pezzopane di questa adesione che dà l'idea di una coalizione ampia, seppur con progetti diversi e anche con diverse sensibilità. Paolo Romano, capogruppo d'Italia Viva, sarà candidato nella lista del sindaco. Una presenza preziosa in comune, seppur all'opposizione, così ha detto la Pezzopane. Romano giudica la sua candidatura come una prosecuzione naturale del lavoro fatto in questi anni in cui, secondo lui, è mancato l'ascolto del territorio. Sicuramente non è andata bene la politica degli annunci, servivano delle soluzioni, serviva ascoltare il territorio, analizzare le problematiche e dare delle risposte concrete e con atti amministrativi. Tutto questo non c'è stato, basta andare in giro per la città e vediamole tante incompiute. Faccio un esempio su tutti. L'amministrazione Biondi, proprio ultimamente, in questi ultimi giorni, ha pubblicizzato 220 milioni di euro di opere pubbliche. Ebbene, la quota parte, quasi la metà, è da riferirsi all'amministrazione Cialente.